Climate Fest 2023, siamo qui con... Neime, mi chiamo Neime. Che ci parlerà della sua associazione? Sì, io mi chiamo Neime, siamo due gruppi, un'associazione e un gruppo, comunità iraniana, si chiama Benamah Massa, e un'associazione che si chiama Associazione Mana. Siamo iraniani e abbiamo iniziato la nostra attività da settembre 22, dopo che è iniziata la rivoluzione iraniana. Poi adesso facciamo sensibilizzare la comunità italiana, facciamo tanti interventi, facciamo manifestazioni e proviamo a far sentire la voce dell'Iran. Ed è la prima volta che partecipate al Climate Fest? Sì, sì, sì. E cosa vi aspettate da questo Climate Fest? Quali sono le attività che proponete? Noi qua facciamo qualche intervento e raccogliamo qualche informazione per qualcosa che fa il governo Repubblica Islamica dell'Iran, che non rispetta ai diritti umani, neanche all'ambiente, alla natura e vogliamo far vedere che cosa fa il governo Repubblica Islamica in Iran. E di che cosa si occupa l'associazione di cui fai parte? Noi sempre facciamo sentire la voce dell'Iran, siamo come specchio dell'Iran, perché qua adesso in Iran non possiamo sentire la voce vera in Iran. E noi proviamo il nostro migliore per far sentire la loro voce. Ok, allora ti ringrazio molto, vuoi magari aggiungere qualcosa tu oppure no? No, volevo solo ringraziare tutti gli italiani e voglio essere la nostra voce, solo quello. Ok, va bene, allora ringraziamo Naime e...